Iniziata questa mattina all'ospedale Barone Romeo di Patti la vaccinazione per gli over 80, parliamo di tutti gli anziani del distretto sanitario di Patti, una fascia piuttosto ampia della popolazione, una vaccinazione che terminerà con ogni probabilità il 3 marzo per quanto riguarda la prima vaccinazione. I vaccini sono attualmente forniti quelli dalla Pfizer e il richiamo sarà effettuato dal 13 marzo, da quando appunto ci sarà la chiamata, possiamo dire, da parte dell'ASPO di Messina. Abbiamo predisposto delle postazioni dove raccogliere gli anziani, chiaramente in gruppi di sei in modo che non ci fosse assembramento, abbiamo predisposto dei moduli da compilare, da riempire con le note informative, con chiaramente le dichiarazioni della storia clinica dei pazienti che devono essere necessariamente riportate e in seguito abbiamo iniziato a chiamare, secondo l'elenco che ci è stato trasmesso dalla regione e dall'ASPO di Messina, in ordine appunto per accedere all'area di vaccinazione. Oggi contiamo di vaccinare 110 persone. Fino al 3 marzo ci sono stati dati dei dati che ci riferiscono circa 1.400 persone, oltre 80 anni, da vaccinare. Terminati gli over 80 dovrebbero esserci innanzitutto le categorie a rischio, come ad esempio soggetti immunocompromessi che possano ovviamente accedere al vaccino, non tutti ci sono le condizioni in cui non si può effettuare il vaccino e anche per questo è importante la vaccinazione di massa della popolazione. Sicuramente la scuola e quindi tutti i dipendenti, gli insegnanti, gli addetti alla segreteria devono essere anche vaccinati in questo senso. Per quanto riguarda le vaccinazioni, visto che lei è un medico vaccinatore, molti temono che ci possano essere delle ripercussioni, degli effetti collaterali. Il vaccino Pfizer, che ricordiamo ha un'efficacia molto elevata, un'efficacia del 95%, negli studi che sono stati condotti, studi clinici, non abbiamo riscontrato nessuna reazione particolarmente grave. In uno studio pubblicato negli Stati Uniti sullo stesso vaccino, su 18 milioni di dosi somministrate, soltanto 66 sono state le reazioni gravi e comunque nessuna che ha portato al decesso del paziente. e si sono tutte verificate entro 20 minuti dalla somministrazione, motivo per cui noi diciamo a tutti i pazienti e a chi li accompagna di sostare nella sala di attesa per questo tempo, per questa durata di tempo.